Ciao, in questo video faremo la piramide challenge. La Letizia è assente perché oggi pomeriggio ha la gara, hai bocca al lupo Leti! La Federica è un po' che non è assente, la vedete che non c'è, perché sta facendo degli accertamenti medici, perché ha sempre un po' di mal di testa e quindi sta facendo dei controlli, non vi preoccupate. Chi manca ancora? La rosa! Ah, la rosa, poverina l'influenza, sì, ok. Allora noi, scherziamo le survivor, sopravvissute, non c'entrano i veterani, verticale, salgo sulla piramide e scendo, chi riesce a fare tutto il percorso, quindi salire e scendere, vince. E dopo facciamo lo spareggio, se siete più di una, ok? Dai, proviamo, andiamo. Va bene, mi raccomando le altre stanno a fare i coach. Dai, via! Sì, teniamo anche gli step, sì, sì. Brava! Questa era una prova, no? Sì. Ok. No, teniamola per buono. Giadi. Giadi, sei a posto? Deborah. Allora. Ok. Vai, Nicole. Dopo tocca a te, Laila, eh? Sì, sì. Sì, sì. Ok, tocca alla Emma. Attenzione in discesa, eh, la Emma. Io toglie a me gli step che ci sono lì davanti. Tocca alla Kate. Ok. Ma così si può scendere anche? Ma è più in giro? Eh, come volete, in realtà. O uno step alla volta? Ma no, è più in giro. Ma si vuole. Eh, certo. Sì. Ma anche salire, in realtà, eh? L'importante è che ritornate in verticale. Ok. Chi parte? Ma lei. Ma guarda, 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 non è. Non state lì dietro. Dai. Ok, avete tre tentativi a testa, eh? Il primo tentativo, cosa c'è, Emma? Hai avuto porno per tua sorella? No, dai, non succede niente. No, primo tentativo, né per Giadi né per Debi è funzionato. Emma. Emma, ce la fa! Bravissima! Caterina. Caterina. No, caterina, non ce la fa. No, ce la fa. Mi call. Tu, la, tu, la. Non ce la fa! Emma. No, niente. Primo tentativo, Emma, ce l'hai fatta. Ok, quindi Emma, tu basta. Prova non solo le altre. No, poi se qualcun'altra ce lo fa, si sfida con te. Sì. Dai Giadi. Ce la fa! Brava Giadi! Perché? Perché ho messo la mano così. Debo. Quasi, Debi! Chi tocca? Caterina. Mi è venuto in mente un altro video. Nooo, purtroppo. Mi è venuto in mente un altro video intanto che stiamo facendo questo, sai? Dopo lo facciamo, sì. E dopo? Sì. Beh, tu pensa capovolta verticale così poi dopo non lo ricordo. Niente, Michi, non sei praticamente neanche partita. Emma, ma la Laila intanto lo sta facendo? Laila, cosa stai facendo? È un indone. Mi ha fatto del terrore per un secondo che ti cadeva. Emma. Cioè, fino all'ultimo ci hai provato, eh? Brava, però mi dispiace, non ci sei riuscita. Era il secondo tentativo, Emma? Sì. Ok. Ricominciamo. Deborah. Terzo tentativo. Dai, Debi. Concentrati. Ce la fa! Brava, Debi! Deborah ce l'ha fatta. Chi tocca? Concentrati, Kate. Attenzione. Parte. Ho detto, non ho fatto. 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 Ok. Michi? Attenzione. Dai, dai. Mi dispiace, Michi. Mi dispiace. Vabbè, non è facile, eh? Cioè. Emma. Ma non aiutatela. Attenzione. Diciamo che è stata aiutata nella discesa, quindi non hai superato la prova, però brava. Ok. Perfetto. Allora, siamo a pari merito già da Deborah ed Emma. Ok? Andiamo. Emma! Sì, sì, assolutamente. Emma? Ce la fa! Giada? Allora. Ok. Ecco. Perché ci vedo con me? Normale. Ok brava Debo concentrati Bravissima Allora cosa facciamo? Non possono essere tre campionesse No 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 facciamo su sali scendi ti giri sali scendi ok Bravissima applauso Emma però devi spostargli lì Giada Grazie 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 Dai Debi Bravissima terzo posto per Debi E prima a pari merito Giada e Emma Eh l'ha detto lei e io Grazie Grazie Ciao Ciao